Ad un mese dall'emannazione del decreto relativo alle misure restrittive imposte dal governo per la lotta al coronavirus, la situazione è sempre più pesante viverla in casa da reclusi nel proprio paese. Ancora più disagevole per chi invece è fuori dalla propria città. Noi abbiamo sentito una giovane coppia di Alvignano che vive invece in Piemonte per sapere come vive questo momento lontano dalle proprie origini. Signor Gabriele benvenuto, lei vive in Piemonte, dove esattamente? Esattamente vivo a Moncalieri, provincia di Torino. Con chi vive da solo? Vivo con la mia ragazza, ci siamo trasferiti per motivi di lavoro ad ottobre del 2019. Che cosa fa nella vita al di là di questo periodo di emergenza sanitaria? Lavoro in una logistica che si occupa smistamento prodotti alimentari, quindi nonostante tutto io comunque vado al lavoro anche perché comunque forniamo grandi supermercati e catene di supermercati adottando tutte le misure di sicurezza. Mentre la mia fidanzata resta a casa facendo didattica a distanza poiché insegna. Lei di dov'è esattamente? Siamo di Alvignano, orgogliosi di esserlo. Il paese dei Vespisti alvignanesi. Quanto mi manca la mia Alvignano. Quali sono le vostre giornate tipo in questo periodo da reclusi in casa e soprattutto quanto sente la nostalgia di casa? Da recluso in casa in questo periodo io no perché regolarmente, come ho già detto prima, scendo tutti i giorni a lavorare da lunedì al venerdì. L'unica reclusa in casa resta la mia fidanzata che nonostante ciò comunque è sempre più impegnata con la didattica a distanza come tutti i docenti d'Italia per cercare di dare il meglio ai propri allievi. Il tempo libero lo passiamo in casa. Ad esempio questa giornata di sole, c'è un sole bellissimo oggi e non ce lo possiamo godere. Abbiamo un bellissimo parco sotto casa che fa parte proprio del palazzo dove abitiamo e non ce lo possiamo godere. Però ci dedichiamo un pochettino alla cucina, ci dilettiamo a fare la pizza, il pane, la pasta fatta in casa, le tradizioni che ci hanno insegnato un po' i nostri nonni e un po' anche lavorando perché ho lavorato in passato nella ristorazione. La nostalgia di casa quella si è fatto sentire già a ottobre quando siamo saliti ma a entrambi perché giustamente io ho quasi 38 anni quindi si fanno sentire 37 anni di nostalgia si può dire. I suoi maggiori disagi? Il disagio di non poter vivere più quella che era una volta la normalità. Era normale fare delle passeggiate, era normale uscire, fare delle corse, tutto quello che prima era normale. Anche andare a salutare dei nostri parenti che abitano qua vicino ed ora non possiamo vederci se non sentirci telefonicamente. In questo momento in questi giorni ci manca proprio rientrare ad Alvignano nel nostro paese d'origine. La normalità di poterci rivedere, riabbracciarci presto, questo è quello che si fa sentire in casa in questi giorni soprattutto in prossimità di queste feste e l'augurio particolare è poter riscendere il primo possibile appena si stabilirà tutto perché sono sicuro che finirà tutto e andrà tutto bene. E tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it